Salve amici del Centro Medio Italiano, nubi sparse e schiarite sull'Italia ma con pochi fenomeni associati. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 15 aprile. Addensamenti in transito al mattino al centro nord ma con tempo asciutto e maggiori schiarite al nord. Al pomeriggio il locale aumento dell'instabilità con possibilità di isolate piogge o acquazzoni sia sulle Alpi Orientali e più asciutto altrove. In serata e nottata residui e precipitazioni su Alpi Orientali e Friuli, piogge sparse in arrivo anche in Sicilia e Bassa Calabria, stabili altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, temperature minime in calo al centro nord e aumento al sud e massime stabili o rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.